Con noi stasera Rocky Roberts. Ciao Rocky. Ciao, ciao. Allora, ho sentito che il pubblico comunque ha ballato, ha cantato. Come ti è sembrato? Ma, non posso rispondere perché sai quando sei sul palco, hai sempre la voglia e speranza che il pubblico piace e mi sembra che l'ora ha risposto abbastanza positiva. Ma questa è una domanda un po' larga, non si può rispondere artisticamente perché io venivo tutto in un altro genere, altri tempi, ma io non trovo che la musica è cambiata molto, sì. Ha cambiato il senso che si presentano in un altro modo, ma la notte e la musica è sempre quella. Qual è il tuo rapporto con la musica napoletana? Ma il mio rapporto con la musica napoletana, per dirti la verità, è molto poco che lo senti la musica napoletana in questi ultimi tempi perché io sono sempre in giro e normalmente non c'è proprio tempo da ascoltarsi. Ma puoi dire che io admiro molto Pino, Pino Daniele, è bravo, ma oltre a lui non può rispondere altro. Nel mercato anglosassone c'è stato comunque un ritorno della musica anni 70. Secondo te ci può essere anche in Italia comunque un ritorno della musica anni 70? Ma tu sai che a me tutte le cose, la volta è rotonda, si gira e quando si finisce l'ultimo punto si ritorna sempre di capo, perché no? Chi? Un grande saluto da parte di Rocky Roberts a tutti gli telespettatori da IT Napoli 78. Grazie. Grazie. Grazie.